buongiorno ragazzi allora l'allenamento che vi propongo oggi è un'alta intensità abbiamo 36 minuti di tempo per fare 100 cross crunch a terra 100 barpees e poi 80 strappi e slanci col manubrio 80 vuol dire la somma dei due facciamo tipo prima il braccio destro ne facciamo 40 facciamo uno strappo uno slancio uno strappo uno slancio fino a 40 e poi dopo cambiamo col braccio sinistro o viceversa oppure potete farli tranquillamente alternando ok alla fine degli degli 80 strappi slanci facciamo 50 piegamenti a terra i primi 5 scusate 100 piegamenti a terra i primi 50 li facciamo con l'enfasi sul pettorale quindi con una presa più larga e gli ultimi 50 li facciamo con una presa più stretta per dare enfasi al tricipite il tutto in 36 minuti il carico a piacere dovrebbe rappresentare più o meno il 60 per cento del body weight e le ragazze possono sui piegamenti portarli a 50 se vogliono e fare 25 e 25 oppure sempre 100 buon lavoro buon lavoro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti